ancora buon viaggio ben trovati muoversi in Toscana Mauro Ciutini in studio sulla Firenze Pisa Livorno ci sono rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione di Livorno lento il traffico anche in A1 tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze segnalata la presenza di pedoni in A11 tra Firenze Peretola e la barriera di Firenze Ovest in direzione di Pisa tornando in A1 ricordo c'è un controllo di velocità tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze e il traffico comincia a farsi intenso sui viali di circonvallazione a Firenze sia in entrata che in uscita a città per il momento è tutto muoversi in Toscana con Regione Toscana città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!